E ciao a tutti, sono Puglia. Oggi con il mio amico Capo Boblin faremo una gara di costruzioni. Buona visione! Scrivetemi ai commenti chi ha vinto per voi. Allora, 3, 2, 1, via! Si parte! Allora ragazzi, come costruiamo la nostra casa? Allora, io ho preso del mattone del nero e del rosso per fare il pavimento. Io penso che fino a qua basti. Ciao! Allora, potrei rifarla molto larga la casa perché non c'è molto spazio. Mettiamo ancora più larga. Mettiamo un po' di blocchi. Fino a qua secondo me basta. Sì, dai! Poi, nei commenti, come abbiamo già detto nella intro, dovrete scrivere chi secondo voi è il vincitore, ovviamente. Ciao, sono Capo Boblin! Ah, comunque Capo Boblin sta facendo la casa a tema nether, blu, e io a tema rosso. Perché non è che possiamo fare la casa identica, uguale. Secondo me voterete me. Vero Capo Boblin? Ah, forse sì, forse no, dipende dalla casa, dovete essere sinceri perché se no non... Non... Eh, 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 se no siete sinceri nessuno può vincere perché... 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 perché non voglio svelare il piano? Perché... perché... segreto, piano segreto. Allora... Io comunque penso di andare piano in palmetto perché è troppo piccolino. Meno, l'ho fatto abbastanza grande, penso. Ma invece non tanto. Poi ovviamente c'è un muro di bedrock per non fare... per non fare copiare l'un dall'altro. Anche se lui sicuramente andrà... andrà in... in modalità spectator. E mi darà a spiarvi sicuramente. Certo. Non è che adesso lo sto facendo, no, no, no. Se veramente sto... No, non lo sto facendo. Ma lo ha preso via. Allora, non voglio fare il troppo grande la casa, se no sono esagerato. Allora... 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 Piccolo momento butto, ma... ci sta. Ci sta, ci deve concentrare. Allora, questo lo vediamo, ok. Allora... Come sta procedendo? Eh, bene. Non ci ho dimenticato di prendere delle porte. No, invece non è... Perché è abbastanza bene, è abbastanza bene. Tu metterai ovviamente le porte blu. Io non metto porte. Perché il mio progetto... Non prevede porte. Non prevede porte, esatto. Non prevede porte, esatto. Ok... Però con... L'albero lo devo sentire. Cosa? Albero? Io non ho detto assolutamente di niente. Ehm... Ah, quindi ho sentito male. Sì. Ah, beh, sì. Allora, diciamo che... Praticamente... Praticamente. Ho detto albero, perché... A me piacciono tanto gli alberi. Certo. Non è che adesso stai costruendo una casa albero, no. Eh, no, perché a me piacciono tantissimo gli alberi. Certo. Non è che ogni volta li distruggi, no, mica. No, quindi praticamente adesso sto facendo questo... Questa casetta, che non è male. Che bell'albero! Eh, sì? Che non è un albero, ma intendo... Non è che adesso ho spiato, ho visto un albero, no. Ehm... Em? Sì, em. Ehm... Non lo sto assolutamente so... C'è da fare così? Perché... Siccome viene il filo... Io ho fatto tanto... Vabbè, dai, lo dico, sto facendo un albero. Guarda, non ti avevo appena spiato. Ehm... La cosa... È che io, almeno, non ho bisogno di fare il tetto. Perché io ho un albero, essendo un albero... Ah... Basta che, basta che... Lo avevo calcolato questa cosa. Metto le foglie e quindi... Basta, bom... Basta, bom... Bum 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 bum... Oh... Quindi contate anche queste cose e mettete un po' di punti a me in più, grazie. Ma perché? Scusa! Ovviamente che avremo altre gare, vero? forse di oggi ne usciranno un po' però puoi uscire anche video vanilla se vi piacciono scriveteli nei commenti no, ho sbagliato ho sbagliato io penso che fra poco inizio devo andare a casa, sai? ok perché... perché... perché è figo faccio bene cosa strana, sinceramente guarda, io no, eh io no sto facendo uno stile molto... molto culio molto culio c'è guarda, se provi a sfiarmi dal muro di bedrock muori in pratica ovviamente metteremo le finestre ovviamente metteremo le finestre sì, ovviamente ovviamente metteremo le finestre, capito? tu rimetterai le finestre nel tuo albero ma no, che bello l'albero beh, di tenne perché... perché non so io, sai? oh, mi sembra baccato perché non so io, sai? ah, sì, ma perché tu parli russo giustamente sai, le tue lingue strane che parli tu? io certo io parlo lini strano no, assolutamente perché tu parli sempre... eh... svedese eh, svedese svedese eh, svedese roba strana appunto, tu sei strano eh, se ho fatto così sì, sì non può cambiare o forse sì eh allora io diciamo che... l'interno... l'interno l'ho fatto poi devo ancora... cioè non proprio fatto, fatto, fatto ma devo ancora altrimenti migliorare... un... 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 ragazzi sì, perché... si deve essere una casa bella vestita ragazzi eccoci qua abbiamo finito capo Boblin è finito Luca, su cosa? che buono guarda che ti sentono, eh i nostri fan ma che buono ma che buono partiamo con il tour? sì che buona fai partiamo da casa mia? eh, va partiamo da casa tua vieni bello molto carino libri è normale cos'è? riti satanici? eh sì è normale comunque sono degli axoloti belli molto carini aspetta magari vediamo se c'è il colore super raw no non ce l'hai me lo sai che c'è meno dell'1% c'è meno dell'1% eh io lo so però almeno io non volevo vedere dov'è? dov'è quello? vieni scusa mi senti avete aspettato ah ok andiamo a casa tua va che è meglio cosa è che è casa mia? ok allora devi stare vieni un attimo all'entrata devi stare attento non fare movimenti bruschi perché ok hai il nostro capo che è un po' che è volato oh 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 no no vieni vieni un golem di ferro che bel giardino però aspetta vieni un attimo che bel giardino vieni dove? qua c'è il mio cavallo che si chiama Boblin perché mi sono il capo Boblin lui è Boblin poi qua dietro c'è un piccolo giardinetto dove fare pranzo visto quasi non si dice dove fare pranzo si dice dove pranzare vabbè vieni qui sopra invece c'è la mia collente casa ah piccolina una peccola azzurra peccola azzurra perché è una mia amichetta ehi guarda qua ci faccio il bisogno ah molto carino ti piace uii ehi vedi oh 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 ma si è pagata la scala ah si è pagata ok quindi adesso dovete scrivere nei commenti qual è la casa che vi è piaciuta di più ehi ragazzi ci vediamo nel prossimo video oh capo Boblin vieni arrivo vieni va eccomi ciao ragazzi al prossimo video ciao ciao